Esiste sempre una causa affinché un valore nel sangue, un parametro motochimico, un marker si elevi. E se si eleva il colesterolo nel sangue esiste una causa che quasi mai viene indagata, viene dato il farmaco per abbassare il colesterolo, punto e basta. Ma se si eleva questa molecola una ragione c'è, il nostro organismo non fa cose a caso. Noi facciamo cose a caso, il nostro organismo no. Quindi alla fine è da chiederci come mai il colesterolo è elevato improvvisamente oppure da tempo. Uno dei segreti per abbassare il colesterolo, perché è anche una delle cause, è uno dei piccoli trucchi che voglio darvi oggi, è che incredibilmente il colesterolo si può elevare per ragioni alimentari. Ma come sempre dico, non il colesterolo che viene assunto per l'alimentazione, che non c'entra nulla o relativamente, ma esiste qualcosa che lo fa alzare, qualcosa di tipo di nutrizione, riservato alla nutrizione, che se in eccesso aumenta il colesterolo. Questo qualcosa si chiamano carboidrati raffinati. Incredibilmente, la quantità eccessiva assunta in modo inconsapevole di carboidrati raffinati ha dimostrato di agire su un enzima particolare, che è lo stesso che agisce sulla sintesi dell'insulina. Carboidrati, aumento di insulina, aumento di colesterolo. Carboidrati, aumento di insulina, aumento di stimolazione di quell'enzima che converte la sintesi di colesterolo, si chiama beta-idrossimetilglutamilcoenzima A, va bene, ma qui non conto i nomi tecnici, quell'enzima che sintetizza il colesterolo è sollecitato dalla quantità eccessiva di insulina. E l'insulina è sollecitata dalla quantità eccessiva di carboidrati. E quindi a volte basta ridurre, azzerare o inibire quantomeno l'assunzione dei carboidrati per notare incredibilmente che il colesterolo si abbassa senza il bisogno di prendere alcun farmaco. Fai la prova!